Salve a tutti dal Terracina Blog, non siamo a Terracina ma siamo a Borcovotice oggi per riprendere il 26esimo incontro gastronomico dell'Agro. È una festa che si svolge nel centro, nella piazza della chiesa di Borcovotice, abbastanza animata, si tratta di una festa gastronomica. Vediamo un po' cosa offre questa festa. Qui ogni stand è dedicato a un piatto particolare, questo qui è dedicato ai codi che fagioli, come potete vedere è poco affollato, evidentemente non risquade molto successo tra gli utenti. Andiamo al prossimo stand. Allora, siccome ogni stand rappresenta praticamente una terra di origine, il Friuli, altre terre, altre persone sono qui, quest'altro stand invece offre, è dedicato al Venere, offre polende e salcicce, infatti è affollatissimo. Questa è la cucina, ancora un attimo momento non preparato, i piatti, questa è polenta, invece dove vedete svilupparsi parecchio fumo, quello lì praticamente è l'angolo cottura salcicce. Andiamo avanti, allora. Questa è la chiesa, la chiesa è GOSUM VIA VERITAS ET VITA. Questo è un altro stand abbastanza affollato, ed è dedicato alla cioceria e offre fettuccine a sugo. Ecco, vediamo i cuochi al lavoro. Perfetto. Quest'altro stand invece è dedicato all'Emilia Romagna e offre cappelletti e ragù, anche questo è abbastanza affollato. Insomma, l'unico che ne riscuote è successo è quello delle codiche e facioli. Vediamo un attimo cosa rendono, aiutemi. Qui siamo al centro della piazza, questo è il monumento ai caduti, un borgo odice, una panoramica. questo è il mio reparto preferito, salcicce in notevole quantità. Vediamo un po' di pagliaccetto. Ecco qua, ciao bello! Vista, la piazza è affollatissima. Inmancabile cantina Sant'Andrea. Un distributore di latte alla spina, un euro e dal latte alla spina. Questa è la pista da ballo, è ancora presto, manca l'orchestra. Questa è la pista da ballo, è ancora presto, manca l'orchestra. Questa è la pista da ballo, è ancora presto, manca l'orchestra. Questa è la pista da ballo, è ancora presto, manca l'orchestra. Che sono il nostro 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 canale. Che è la pista da ballo, è ancora presto, manca l'orchestra. Che vediamo in un'altra pista, dai! Passofono, Lelino Lucienosti, Le Paglie Bellotti Alla chiesa Monica Luciano Rossi Alla tastiera delle programmazioni, Carlo Rompone Alla voce femminile, Grazie alla bella Signori, armonia e ai Grazie a tutti